Il Real Madrid esordisce con una vittoria al stadio Santiago Bernabeu in questa nuova Champions League Nonostante la fatica, nel primi 80 minuti è riuscito comunque a batterlo Stoccara con il risultato di 3-1 Dopo un rigore che stava per essere dato nel primo tempo su un fallo su Rudiger e poi annullato Alvar E appunto un primo tempo fatto di grande difficoltà per il Real Madrid che si è concluso a reti bianche All'inizio del secondo tempo l'ha sbloccata Kylian Mbappé, il primo gol europeo di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid Ovviamente escludendo il Supercoppa europeo intorno a Champions League Quindi è andato il assegno all'esordio Kylian Mbappé per poi appunto il pareggio dello Stoccara con un Dav Ma poi Rudiger, sempre Rudiger, si era guadagnato il rigore e poi tolto nel primo tempo È riuscito a rimandare avanti il Real Madrid del 82esimo minuto Ma non è solamente Kylian Mbappé che ha segnato all'esordio europeo con la maglia del Real Madrid Perché al 95esimo minuto, quindi praticamente all'ultima azione della partita È andato a segno anche Hendrik che è entrato in campo ha siglato anche lui il suo primo gol europeo con la maglia del Real Madrid Quindi partono con la vittoria numerose squadre La Juventus che ha vinto, il Liverpool che ha battuto il Milan Lo Sporting Lisbona che ha battuto il Lille e tante altre squadre E sicuramente il Real Madrid è un'altra squadra che è partita veramente molto positiva in questa prima giornata di Champions League Voi che cosa ne pensate? Ditemi la vostra Grazie a tutti! Grazie a tutti!